vai andrea si diverte molto mamma mia che bel gnocco mezzo chilo di gamba gnocchettino da pino ragazzi andate nel pino funghi che ci sono a milano marittima non venite sulle montagne ciao a tutti anche il bombo da pino andrea azzecca il posto giusto passiamo di lì che ogni tanto c'è il bombo facciamo anche una carassiera lui il re 400 500 grammi siamo anche anche più di mezzo chino mori ha fatto una corsa per niente fungacci ma di fianco i fungaci spunta lui il john lui il john lui bello stiamo andando il bombetto in patacca ciao a tutti anche oggi lori ha giocato il bigiolli 1 e 2 è andato in super fortuna da 50 metri di vesti super bis gambibus super bis gambibus belli una bella coppiata due insieme belli veramente belli vamos grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti